Ciao a tutti, oggi parliamo di centri meccanografici, di personal computer e dell'evoluzione che c'è stata negli anni di queste tecnologie. Parliamo praticamente di colossi tipo IBM, Honeywell, Apple, dal punto di vista dell'hardware e dal punto di vista del software, soprattutto di Microsoft. Per raccontarvi di queste vicende ho bisogno di raccontarvi un po' della mia vita professionale e quindi vi chiedo scusa se farò un po' di autoreferenzialismo, ma tutto nasce nel 1974, che fu per me un anno importante ma anche molto triste. Praticamente in quell'anno io mi diplomai per rito industriale elettronico nel luglio del 1974. Nell'agosto del 1974 purtroppo venne a mancare mio padre in giovane età e nel settembre, anche per questa vicenda, io accelerai il mio percorso lavorativo e venne assunto da un'azienda che si chiamava La Vilanova SPA, che era un'industria alimentare e che in quel momento cercava personale. Venne selezionato, fui assunto e passato il mese di ottobre venne dal presidente della società contattato se ero interessato a fare un test attitudinale con un'azienda importante di Milano. Feci questo test attitudinale e lo superai brillantemente, tant'è che questa azienda che si chiamava Easy, Aisy in inglese, era praticamente la Honeywell. La Honeywell stava cercando di vendere ai proprietari della Vilanova questa tecnologia e allo stesso tempo però gli serviva anche di avere delle persone poi in grado di gestirla questa tecnologia. Praticamente mi venne proposto di fare un corso di un anno a Milano dove dovevo imparare quello che era la programmazione, in quegli anni si chiamava TAP3 e la possibilità di gestire poi il centro meccanografico come operatore dello stesso. ne fui chiaramente entusiasta anche perché oltre a essere stato assunto da poco mi si presentava un percorso a carriera decisamente interessante e soprattutto tutto pagato nel senso che io ero sia stipendiato dalla Milanova S.P.A. e allo stesso tempo potevo partecipare a questo corso in maniera gratuita. E questo fu l'inizio del percorso. Dovete sapere che la Honeywell era una derivata della General Electric e ancora prima della Olivetti. Praticamente tra il 68 e il 70 nacque la Easy Honeywell italiana e tra l'altro di Adriano Olivetti ne parleremo in una prossima puntata. La programmazione avveniva tramite dei flowchart, ovvero dei diagrammi di flusso che venivano disegnati su carta che descrivevano il percorso dei dati d'ingresso che si volevano elaborare per poi tradurli tramite il centro meccanografico in dati di uscita. Tutto nasceva tramite delle schede perforate che venivano perforate da delle macchine e queste praticamente acquisivano il dato e lo trasformavano in tante schede bucarellate che una volta introdotte nell'elaboratore venivano da questo elaborato e a questo punto venivano fuori le informazioni di dati rielaborati. Praticamente stiamo parlando di sale enormi, fate conto che dove lavoravo io c'erano due sale, una destinata a un elaboratore che gestiva tutta la parte commerciale dell'azienda, l'altra era una sala dedicata a tutto quello che era contabilità e buste paga e io dovevo gestire questi due elaboratori insieme a dei colleghi che a turno facevamo girare queste macchine. La programmazione serviva per creare le condizioni, ad esempio inserire i dati d'ingresso dei dipendenti per elaborare una busta paga piuttosto che tutto l'insieme della contabilità del personale. Era uno strumento per quegli anni decisamente avanzato e allo stesso tempo era fatto di tante lavorazioni abbastanza particolari. Esistevano dei dischi che erano larghi 60-70 cm che venivano di volta in volta interscambiati perché chiaramente le memorie di questi erano molto piccole rispetto a quelle che possono essere le memorie di oggi dei personal computer piuttosto che degli smartphone. Ho sperimentato l'IBM qualche anno dopo, praticamente quando gestivo la fatturazione di un cash and carry dove l'elaboratore, sempre a schede perforate, era un IBM. Ma il grosso dell'esperienza IBM la feci nel 1987 quando aprì con proprietà un punto vendita di circa 1200 m2 che gestiva sia alimentare che non alimentare e che quindi aveva da gestire qualcosa come 15.000 referenze. Avevamo cinque casse, tutte casse IBM, che praticamente erano dei personal computer con tanto di disco fisso che erano collegate ad un server che era nel back office, nell'ufficio, e dove praticamente venivano elaborate tutte le referenze di questo punto vendita. Tenete conto che quel punto vendita era decisamente innovativo perché al di là di avere alimentare e non alimentare, aveva soprattutto la gestione dei codici a barre. Credo che sia stato uno dei primi in Liguria che gestiva il codice a barre. Cos'era il codice a barre? Era la trasformazione dalla logica che ogni prodotto era etichettato da una macchina etichettatrice col prezzo a una logica di un lettore che leggeva il codice a barre e che quindi sapeva trasformare tutte le informazioni in informazioni utili per la sana gestione del punto vendita. Allo stesso tempo io devo dire che ho avuto anche la fortuna di avere degli amici e dei colleghi coi quali abbiamo già nel 1988 elaborato il carico di un magazzino. Praticamente io credo che eravamo tra i primi in Italia a gestire le entrate e le uscite delle merci con una logica di controllo di gestione decisamente avanzata. Ecco, questa esperienza delle casse IBM vi fa percepire la trasformazione quindi da grandi sale dove facevi delle elaborazioni di un certo peso, di una certa entità a delle piccole, diciamo che nell'ambito del metro quadrato esisteva la cassa con il suo personal computer dove riuscivi a fare le stesse elaborazioni in uno spazio decisamente più piccolo. Chiaramente il tempo ha cambiato ancora di più le cose e le trasformazioni le conosciamo molto bene tutti. Per concludere la mia esperienza, oggi io uso molto Apple. Apple come Mac, Apple come iPad e come iPhone. Macchine potentissime, poco flessibili, tant'è vero che spesso per certe elaborazioni mi tocca usare Android piuttosto che Windows, però allo stesso tempo Apple è un qualcosa di particolare. Tornando su IBM, IBM è nata nel 1888 come fabbrica di macchine addizionatrici ed è tuttora diciamo una delle aziende più potenti dal punto di vista informatico. ha sviluppato tutta la parte hardware, ma ha sviluppato anche la parte software e per una parte della parte software ha utilizzato Microsoft. non so se lo sapete, ma praticamente Bill Gates vendette a IBM l'MSDOS, quindi lo strumento, il sistema operativo per poter far funzionare i primi personal computer di IBM. poi su Bill Gates, come dicevo prima di Olivetti Neri, riparleremo in un'altra puntata. Praticamente, Honeywell vi ho detto, IBM ha questa storia antichissima e questa potenza industriale. Apple è stata sicuramente l'azienda più innovatrice degli ultimi anni e questo grazie a Steve Jobs, che fu sicuramente uno che vide nel futuro, partendo dal Macintosh degli anni iniziali fino ad arrivare all'iPod, che trasformò praticamente tutto il mondo digitale della musica, così come l'arrivo dell'iPhone nel 2007, che cambiò radicalmente il modo di telefonare, ma soprattutto il modo di utilizzare gli strumenti tecnologici per arrivare poi all'iPad. Diciamo che Apple, dal punto di vista dell'innovazione, è stata un'azienda grandissima. Bisogna vedere se, essendo poi mancato Steve Jobs, se la stessa Apple sarà in grado, nel prossimo futuro, di mantenere questa innovazione continua che è stata il fiore all'occhiello di questa azienda. Apple è nata un anno dopo Microsoft. Apple è nata nel 1976, è stata fondata da Steve Jobs e Watson e Iac, e praticamente Microsoft nacque un anno prima da Bill Gates e Paul Allen. Diciamo che questi due colossi, uno più nel mondo dell'hardware, l'altro più nel mondo del software, nascono nel classico garage sotto casa da parte di due ragazzi giovani. 1955, la data di nascita, tra l'altro anche la mia data di nascita, di due personaggi che hanno stravolto e cambiato il mondo. Dal punto di vista della tecnologia, Apple, vi ho raccontato la sua storia, diciamo che Microsoft nasce come software house, Bill Gates ebbe l'intuizione di acquisire questo strumento che poi chiamò MS-DOS e che lo diede a IBM, ma non vendendogli, ma mantenendola, diciamo così, per ogni persona venduto da IBM e dovrà essere riconosciuto un tot alla Microsoft. Dopodiché, altro tema importante fu Windows per quanto riguarda Microsoft e anche su questo ci furono delle belle discussioni con Apple sul fatto della finestra e della grafica che veniva utilizzata, per arrivare poi a tutto il tema di Internet con Explorer, che fu quello che in qualche modo segnò la partenza definitiva del mondo Microsoft. E anche su questo ci fu una forte guerra legale con Netscape. Tutti questi mondi che abbiamo visto, queste aziende di questa allevatura, portano però ad alcune riflessioni. Allora, la prima riflessione è questa. Quando io ero bambino si andava a giocare a pallone nei campetti. Successivamente i nostri figli hanno vissuto l'avvento della televisione, tante ore passate dietro alla televisione. Oggi si sta vivendo un altro modo di vivere da parte dei nostri nipoti, che è quello dei computer, che è quello dei videogame, e che portano chiaramente a due tipi di problemi. Uno è quello della mobilità, l'altro è quello della singolarità. Il rischio di rinchiudersi in un mondo molto individualista io credo che sia un fenomeno per il quale bisognerebbe aprire qualche discussione. così che poi noi siamo stati costruiti per camminare. Noi tendenzialmente con le macchine, con le automobili, camminiamo meno. L'aspetto fisico è meno importante rispetto al passato. Non è che noi un domani saremo sigillati in un'urna e vivremo solo in un mondo virtuale. Ecco, rispetto alla puntata di oggi, il tema che secondo me deve essere discusso e mi piacerebbe che mi scriveste alla mail i tempi cambiano, comunità, comunità senza l'accento sulla A, chiocciolagmail.com, piuttosto che nella pagina Facebook i tempi cambiano, piuttosto che ancora nel mio sito, genovainvestimenti.it, per aprire veramente una discussione su questi aspetti che ci stanno cambiando la vita decisamente in positivo, ma che sono sostanzialmente un grosso problema per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Alla prossima puntata e grazie dell'attenzione.